Aprire anche con il Piemonte opportunità di sviluppo economico, culturale e tecnologico. Con questo obiettivo una delegazione della provincia cinese dello Shanxi è stata ricevuta a Palazzo Laskaris dal presidente del Consiglio. Lo Shanxi, situato nella parte settentrionale della Cina, è leader nella produzione di carbone, con oltre 300 milioni di tonnellate l'anno.